Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut su quelli che sono meccanismi normalissimi all'interno della coppia, cioè a casa mia moglie o la mia compagna o la mia fidanzata, giustamente missionario e se la va grassa nel fine settimana, magari, magari sperimentiamo un'altra, non troppo difficile perché guai, e tutto il resto, quindi mascheramenti vari o piuttosto che altrove. Come mai? Emilio, non ti sentire preso in cauda, tu qua sei la scienza, devi dare informazioni tecniche. Diciamo che l'uomo ha questa tendenza a economizzare e spesso quello che avviene è che le dinamiche che si instaurano nelle coppie tendono a ridursi a quelle che funzionano in un certo senso, ovvero più che allargarsi e ampliare il repertorio di componenti, quindi più che aggiungere missionario piuttosto che il feticismo col calzino, la tendenza è quella di ridurre l'esperienza, per cui alla fine questa viene a perdere nelle sue qualità piacevoli o di... Quindi risparmio energetico, esatto, fare la lavatrice dopo le 8 costa di meno e i panni si lavano lo stesso, quindi va bene lo stesso. Ecco, parliamo di lavatrice, ecco mi è venuta in mente la lavatrice. Quali sono i luoghi topici del lato sessuale nelle fantasie di uomini e donne? Vediamo un po'. Ten, ten, oh eccolo qua. Parlano gli uomini. Eh sì, iniziamo, poi Dario tu insomma, hai la tua esperienza. Senti, il posto migliore è il letto, bello comodo. Il letto è sempre tra le lenzuole, credo che sia il posto più... Anche se pare che uno dei luoghi più trasgressivi, e soprattutto nelle prime esperienze tra i più giovani, sia proprio il letto dei genitori, magari con la famiglia intorno, che ne so, a me capita, oddio nel letto di mamma, vabbè io sarò anche... Però, insomma, può essere. Quindi il letto perché? Per comodità? Oppure perché... Io parlo di fantasie. Sì, non... Il letto sicuramente ti fa stare comodo e ti fa anche capovolgere, puoi passare anche da una posizione all'altra. Sicuramente Dio con la lavatrice... Eh, quella è già. Io non so quanta fantasia si può avere sopra la lavatrice. Fatemi capire cosa c'è di tutta questa... Sulla lavatrice. Cioè, boh, cioè cos'è l'effetto? Ma deve essere in funzione la lavatrice, fatemi capire. È continuato il movimento. Ah, quindi durante la centrifuga. Bisogna andare al ritmo. Ho capito. Solo che se non si ferma la lavatrice... È un casino. Vabbè, si passa. Ecco, sentiamo la novella sposa. Bisogna arrivare anche con i tempi giusti sulla centrifuga della lavatrice. È lì, sì. Immaginati, cioè... Lunga esperienza, no? Un calcolo matematico, cioè, devi iniziare, mettere il lavaggio breve e lungo, perché poi dipende anche, ovviamente... Quello rapido. Quello rapido, così qualche vada. Vabbè. Poi ci sono i tavoli. Allora, poi ci sono i gabbiotti del bagno al lido di Adriatico che... La macchina ormai non è neanche più la fantasia. Sì, la macchina ormai è... Eh no, la macchina ormai è assolutamente usuale, non c'è più... Però in autostrada, eh, quando capisci, cioè, ah, il raptus... In viaggi molto lunghi, sempre dritti... Ci può stare quando l'autostrada è bella dritta, oppure... La doccia è un altro posto dove... Con tutto il sapone negli occhi, che non vedi niente, che è meraviglioso. No, il sapone, l'acqua che scorre, l'intimità all'interno del box doccia, cioè, sicuramente può essere piacevole. Ancora di più lo diventa che dopo la doccia si va a letto. Certo, certo. Quindi sempre il letto c'è. Il letto, il letto ci siamo. Certo, e poi infatti... E poi è classico che il maschio, dopo che si è trovato, dopo aver fatto l'amore, non senso, aver fatto l'amore, parte subito nel sonno di soddisfatto che dorme, e il maschio, e lei che ti accarezza, sveglia, che si spera che ti risvegli di nuovo... E lui sviene invece, in letargo. E lei ti accarezza mentre tu dormi, e magari russi. Esatto, magari russi, e lei cerca, poverina, di avvicinarsi alla spalla, e lui che ha già dato e ha fatto il compito il suo dovere, spostati. Va bene, allora, c'è l'altra parte, arrivederci a domani. È una cosa comunque reale. Sì, beh, io parlo per esperienza, assolutamente. Cioè i nostri nonni a volte, poverini, si addormentavano per non avere il tempo di toglierci sopra. Con la posizione del missionario si addormentava sopra la nonna. Addirittura? Eh sì, perché stanco, veniva dalla campagna lì, dovevano fare, dovevano consumare, e poi lui, stanchissimo, dopo che aveva consumato si addormentava sopra di lei. Ah, ecco, ecco perché si facciano 15 figli. Perché poi ti svegliavi la mattina ed eri pronto a ripartire prima di andare sui campi. Ecco, ecco, ecco. Altro che televisioni mancanti. C'era la tattica del missionario della dormita dopo il missionario. Molto interessante. No, ma noi ci stiamo scherzando, ma iniziamo a chiederci allora, è veramente qualcosa di ricercato il luogo trasgressivo, o è più, come dire, quindi un interesse della persona per avere esperienze più piacevoli, oppure è una forzatura per cui ci si sente quasi strani che non si abbia il desiderio di farlo in luoghi strani. Poi cosa pensate? Gloria. Allora, secondo me, io ho sempre visto il letto comunque come una cosa simbolica, nel senso che forse sarò un po' arretrata, non lo so. O romantica, o romantica. Cioè, io ho sempre visto comunque il letto come qualcosa che tu sei lì e al di fuori di lì non c'è nessun altro. È mistica la tua relazione con lei. No, è cinto, è tipico di battaglia a due. Può essere, un ring. Oh, fondamentalmente tutte le cose più hanno sempre. Cioè, sicuramente comunque provare di fare l'atto sessuale in un altro luogo, forse così, forse ricercato, può dar molta adrenalina. Cioè, quello è sempre stato, però, non lo so, dipende, perché secondo me alcuni invece cercano di tenerlo molto più stretto, proprio come atto sessuale, nel senso che c'è il letto, però comunque fuori dalle mura di casa può sembrare troppo metterlo in piazza. E allora ci sono, secondo me, alcune persone che comunque preferiscono tenersi nella loro intimità. Ok, ok. Sì, sicuramente l'adrenalina, il fatto di farlo da un'altra parte. Ma perché qualcuno ti possa vedere la fretta di... Esatto. Cioè, cos'è che interagisce con le citazioni? Beh, sicuramente il fatto di essere scoperti. Sì. E sicuramente è una multa per... Più per le donne o più per l'uomo pubblico? Sì, sì, esatto. Anche quella. Anche quella che è giusto. Oppure l'uomo furbo dice, lo faccio fuori, così lei si spaventa che è, e ci metto un minuto e mezzo. Quindi la propensione è il rischio, no? Esatto. Quindi potremmo calcolarlo quasi. Esatto, è salto tutti i preliminari che parli. Può essere anche questo. Noi pensiamo al pratico, ecco. Noi andiamo sempre a fare le romantiche. Voi invece, ragazzi. Questo ci può stare, vero. No, io ripeto, io comunque sempre, forse sì, anche forse essendo, non so, forse tradizionalista, però penso che comunque non bisogna, cioè, se uno ha bisogno di parlare di certi aspetti, penso che comunque bisognerebbe farlo con amici fidati, che sai benissimo, che non ti mettono in piazza, che non ti sputtanano. Sì, ma dillo pure, mi pare che io oggi insomma mi sarei pronti per le parole. Che non ti sputtanano col primo che passa, ecco. Sì, secondo me comunque certe cose bisognerebbe tenersele, ma proprio per il gusto di tenersele. Poi sì, ovviamente ci può essere il gusto di parlarne con la tua migliore amica, che dici, oh, sai, è successo questo, questo e questo. E magari anche tra le donne si chiacchiera? Beh, direi proprio di sì. Quindi l'uomo può dire, vabbè, va un seno pazzesco, un sedere da Guinness, e poi una puttanata, perché voi la vedi il giorno dopo e dici sì, vabbè. Però lo fa un po' per goliardia. Le donne che si raccontano invece? Beh, sicuramente, secondo me, tra donne si parla e anche tanto. A voi? Sì, e di qualsiasi cosa. Sai, ieri sera è successo questo, te cosa ne pensi, secondo te cosa dovrei fare, oppure mi ha chiesto di fare questo, cosa magari nuova in una coppia, uno forse ci rimane un po', perché... Quindi ha bisogno di confronto. Secondo me sì. Secondo me su certi aspetti la donna ha bisogno di un confronto con un'amica fidata. Ok, quindi forse l'uomo racconta quello che... L'uomo chiede consigli? L'uomo con l'amico si vanta di più. Si vanta ma non chiede consigli? Poco. Difficile. Almeno io, dagli amici che parlo con loro, facciamo quasi i galletti, cioè facciamo più a chi è andato meglio, Ma dite i nomi? No, di solito no. No, no, di solito no. Poi chissà perché una passa a scuola, ah quella si è fatta a tre piani, si è scritto. Inche ci sono i video. Chi dico chi è, vai su YouTube. Renditene conto da te. No, di solito, se una persona un po' corretta di solito i nomi non dovrebbe farli. Però, ecco, potrebbe dire, guarda con questa ragazza ieri sera mi sono trovato bene così, ma l'uomo di solito... Sicuramente la terminologia sarà... La stessa. Mi sono trovato molto bene. Guarda, è stata un'esperienza didattica. Spettacolare. Gli orali sono andati... Esatto. No, l'uomo con l'altro uomo, diciamo, competitore, perché l'uomo credo che la pensa sempre come amico, ma comunque è un altro uomo. La donna credo che vada più su un... si parlano molto, proprio come se dovesse farlo lei al posto suo, secondo me, dalla mia esperienza, credo. Cioè, l'uomo non andrà mai a dire a un'altra ragazza, oh ma lei vorrebbe farlo così. L'uomo dice, anzi, ho fatto io questo, questo... Ho fatto io e insomma ci hanno chiamato la polizia. Credo che con una sua amica dica più, ma abbiamo fatto questo, quell'altro, non sa... Poi da uomo chissà cosa... Eh, sentiamole, sentiamole le ragazze. Una domanda a Raffica, uno per uno. La vostra prima volta la ricordate bene o no? Te voglia. Te voglia, allora! No, ti dico, ma dobbiamo raccontarla. Beh, insomma, se uno vuole esprimersi... Io non avrei nessun problema a raccontare la mia, perché è stata perfetta, però... La mia, se devo essere sincera, sono molto contenta, la ricordo molto piacevolmente, insomma, non è stata quella che potrebbe dire adesso una ragazza di 13 anni nel bagno, in discoteca... Esatto, questo mi interessava la mia Piera. Che non si ricorda neanche chi era, ma era con un ragazzo con cui sono stata anche molto tempo, perché ci sono stata a due anni, quindi, eravamo tutti e due super inesperti, tutti e due mai fatto niente, quindi l'abbiamo avuta insieme, quindi è stato, secondo me, il top dei top, perché, secondo me, durante la prima volta uno può aver paura, magari, oddio, l'altro esperto, io non so far niente, come cavolo mi... cosa devo fare, come mi devo mettere... e invece, quando si è tutti e due nella stessa posizione, lo si prende molto più con filosofia, cioè, ascolta, non sono buona io, non sono buona te, ci mettiamo qui e cerchiamo di fare qualcosa di fatto bene, cioè... Con il cielo della speranza accanto... Esatto. Esatto. Molto, diciamo, molto tranquillamente. E sapevate, sapevate tutto del sesso quando è successo? Beh, insomma, tutto no, perché secondo me non si finisce mai di imparare. Questo sicuramente, però, insomma, in dettaglio parlo del basic, cioè... Ah, ok! What is it? Beh, il basic sì, dai, il basic si ascolta, tanto è talmente... Hai sentito dire per la televisione, i genitori, che succede? Io non mi ricordo, francamente, non è che sia passato un secolo, io ogni volta parlo come ancestrale, cose ancestrali, Però sì, ero abbastanza inesperta, mi avevo un po'... Ma, più che altro, più che tv, genitori così, di solito i genitori tendono a parlare il meno possibile, perché si vergognano comunque... E voi vi vergognate? Nel senso, adesso, noi siamo tutti grandetti, però dico, quando, qualche anno fa, avremmo desiderato che fossero i genitori a informarci su alcune cose, oppure no? No, se mia mamma mi avesse detto qualcosa, tipo, avrei sgranato gli occhi così, avrei detto, oddio, cosa sta dicendo? Perché mi sta parlando di queste cose? Perché, sì, con i genitori hai un bel rapporto, vorresti parlare di tutto, che loro ti ascoltino, eccetera, però quelle sono cose del tuo privato, ti sembra, non so... Una violenza, forse. No, più che una violenza, violenza è brutto, però sembra che loro cerchino di aiutarti in qualcosa... Che non li contente. Non ti possono aiutare veramente, perché sono cose che tu devi imparare da solo, devi farle da solo, loro ti potrebbero dire qualsiasi cosa, ma poi alla fine sei tu che le devi fare, tu che le devi mettere in pratica. Al massimo col genitore ci puoi parlare dell'atto psicologico, cioè cosa hai provato, i sentimenti, ma proprio... Ha fatto compiuto oppure... Ha fatto compiuto. Ha fatto compiuto. Ok, però per esempio, penso alle ragazze che vogliono prendere, scusami, la ringrazio dottor Gerboni per questo meraviglioso appoggio e sostegno, una ragazza che vuole prendere la pillola per esempio, e che fa? Ha mai capitato per esempio di insegnare a delle ragazzine, oltre a tutte le vicende di disgrazie sessuali, pillole del giorno dopo, eccetera, però che proprio per inesperienza si fidassero di coetane che consigliavano loro determinate cose piuttosto che altre, non prevedendo neanche problemi seri. Quindi va benissimo confrontarsi con un coetaneo, però proprio all'inizio non sarebbe meglio parlare con qualcuno più esperto, anche un medico, una persona adulta però estranea, ha la famiglia. Alice ti volevi... Poi ti ripasso la pala, è bene. Io Sarà che ho un rapporto molto particolare con mia mamma che è molto giovane, quindi abbiamo sempre parlato di tutto e anche prima della mia prima volta, quando comunque prevedevo che sarebbe accaduto, gliene ho parlato e mi sono fatta anche un attimo consigliare, anche a livello pratico, perché piuttosto che affidarmi a qualsiasi altra persona preferivo parlarne con lei. E questo è capitato anche a me, devo dire, assolutamente, anzi. E mi dice, ma basta sto povero ragazzo, tanti anni che passeggiate per la strada, ma scusa, ma poverino, ma lasciati andare, sì, perché poi le mamme sono furbe, quindi piuttosto che buttarti o preservarti da un'esperienza sessuale sicuramente positiva, non nella tecnica, però almeno emozionale, perché comunque hai accanto una persona che ti vuole bene, che magari è entrata in famiglia, che ti sta accanto da qualche anno, è preferibile che avvenga in quel momento, magari un attimo prima, piuttosto che col primo che capita, perché c'hai 19 anni e quindi è ora, ecco, quindi le mamme devono essere, mamme e padre ovviamente, devono essere più oculati, ecco, questo, quindi ci sono informazioni, quindi per te è stato positivo il confronto con tua mamma? Sì, assolutamente, anche adesso, per qualsiasi problema, cioè, anche a livello sessuale, magari ne ne parlo, cioè, se ho qualche dubbio, qualche opinione, cioè, ci confrontiamo comunque spesso. E quindi qual è l'atteggiamento di tua mamma che ti aiuta? Al di là delle informazioni, no, che ti porta? Ma il fatto di essere comunque complice, comunque, con me in questa cosa, di non giudicarmi mai, di non avere l'occhio accusatorio, o comunque il dito puntato per qualsiasi cosa, ma un comportamento da amica, da confidente, da compagna. Anche perché così la madre si sente anche un po' più coinvolta, si sente anche più tranquilla, secondo me, a lasciarti con questo ragazzo, che comunque lei in quel momento ti lascia nelle mani di questo ragazzo e lei si deve fidare e facendola entrare più nella tua vita, dicendogli cose così personali, lei si sente coinvolta e magari anche più sicura, più... Oppure ti chiude in casa e aspetta la maggiorità per quanto, quindi dici, vabbè, non sto scherzando. Però, c'è chiaro, lei ha bisogno di stare tranquilla, chiaro, se gli dici mare di cavolate non ha senso, anche perché prima o poi avrai bisogno di i tuoi genitori, i tuoi genitori sei sicuro che non faranno mai qualcosa a tuo danno e quindi di chi ti puoi fidare se non di loro, cioè, alla fine sono il tuo palo portante. Certo, questo assolutamente. Però dipende tanto perché non è solo un fatto di fiducia, cioè io per esempio con mia mamma non parlerei mai di queste cose, ma neanche magari solo per una cosa mia che non me la sento tanto, ma perché per esempio mia mamma è una persona molto timida, che se io so che gli iniziassi a parlare di un argomento simile, lei si vergognerebbe tantissimo, si sentirebbe in imbarazzo, quindi io lo faccio anche, tra virgolette, per rispetto nei suoi confronti, che non la voglio mettere in imbarazzo, non voglio farla sentire a disagio mentre parla con me, preferisco parlare di qualcos'altro o magari parlare più, magari dell'aspetto affettivo, ci ho litigato perché ha avuto quel comportamento lì che ha fatto schifo, non ha letto, ha fatto questa cosa qui e questa che non mi è piaciuta, anche perché lei mi guarderebbe, io cosa posso fare, mica posso andare a dirgli cosa cavolo fai. Ci sono delle cose che è bene che, insomma, rimangano un po' nel recinto. Esatto, ci sono delle cose che è giusto che rimangano nella coppia. Però secondo me un adolescente, ecco io, insomma, un adolescente che dà chiari segnali di manifestazione sessuale, quindi il trucco, il pantalone vita bassa, piuttosto posso uscire, mamma, ho incontrato una persona, posso andare al cinema, mi viene a prendere, insomma, un genitore non dovrebbe per forza fare orecchie da mercante, magari spiegare a larghe linee come funziona un po' la vita, cioè spiegare che, ma proprio per evitare, per evitare che la mala informazione o la non informazione provochi dei danni. Quindi secondo me è un basic i genitori dovrebbero farlo. Non allora tu che stai combinando, ma così, col pretesto di un film, di una qualsiasi cosa, non all'ora di pranzo, ecco oggi vi spiego i fatti della vita. No, magari no, cercare proprio con i propri tempi di spiegare due o tre cose. Ad esempio c'è una scena molto carina in un film dove c'è Mel Gibson, forse la conoscete, What Women Want, dove c'è la scena del ballo e la ragazzina appunto viene, doveva andare a letto con il fidanzato, che però la tratta male, rifiuta, e poi Mel Gibson che leggeva nella mente delle donne, ma aveva perso il potere, comunque è molto accogliente, quindi la contiene in quella situazione, valorizza la sua figlia senza accusarla, senza giudicarla, ma comunque la protegge. Certo. Quindi effettivamente il genitore può essere vicino rispetto a questi argomenti, però deve saperlo fare. Dario, tu come, tu ieri parlavamo insomma di questo tuo bimbo che ha solo tre anni, però già manifesta la sua virilità a tutti gli effetti. Cosa, come ti comporterai quando, hai già previsto insomma la maturazione sessuale, cosa farai quando i tuoi figli cresceranno? Guarda, io ho tre bambini e naturalmente già la sessualità è una cosa che loro stanno sperimentando, c'è quell'istinto, quell'impulso, che sono d'accordo con la ragazza che ognuno deve sperimentare, credo che a noi nessuno ci ha insegnato niente e quindi devi sperimentare, ti scopri, devi conoscere tu il tuo corpo. Io mi trovo con già mio figlio Davide che ha otto anni, che ha questo bisogno già di toccarsi, bambino che si trova, papà, cioè a volte è un po' così, lo vuole fare davanti a tutti, è chiaro che non lo può fare davanti a tutti, quindi lui la sua sincerità sta talmente bene a casa e talmente libero come bambino, è chiaro che gli devi dare una regola, la sessualità e intimità e se si chiama intimità, sono d'accordo con questi ragazzi che è una cosa intima, quindi gli ho detto a Davide si va in bagno, che stai tu tranquillamente, tu con la tua manina o con i tuoi pensieri, cioè voglio dire, dai una regola, adesso che ti smanazzi per strada, cioè voglio dire, con tutto il rispetto per tutti quelli che voglio dire, ci stiamo evolvendo psicologicamente, lì non è evolversi psicologicamente, lì è un esibizionismo insicuro. Sì, assolutamente. Noi siamo arrivati alla conclusione, grazie per averci seguito, vi ricordiamo la nostra mail per suggerimenti e argomenti che volete trattare ed è programmi.chiocciola.di-altotv.net Grazie per averci seguito, ci vediamo un martedì prossimo, ciao! E allora grazie amici per essere stati con noi, sono sicura che anche voi avrete trovato davvero interessanti le analisi fatte da Paola e dal nostro psicologo. Io vi do l'appuntamento a domani, vi ricordo però di seguirci anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, quella di DTV. Allora, domani puntata interessante, si parla di stile, si parla di look assieme a Valentina, domani in particolare cerchiamo di scoprire qual è il look più giusto, più adatto per una festa a tema anni 50 e poi sempre con Valentina scopriamo un tonico per pelli grasse e pelli secche e poi la nail art con il glitter, prima o poi me la faccio fare anch'io, ciao! Grazie a tutti!